Un altro musicista che questa sera ha deliziato qui all'Anfiteatro a Pente d'Antolo è Carmelo Maesano, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Carmelo, un giovane e come te un artista dalla voce stupenda che riesce a raccontare la vita di questa terra di Calabria. Con le sue canzoni. Diciamo che è una passione che deve essere mia innanzitutto ma anche di chi l'ascolta perché sono in fondo la nostra identità, nella nostra zona e quindi portarla avanti in maniera anche un po' più genuina. Niente, la passione per il canto è nata dagli albori, ho cantato molto tempo così per conto mio, per gioco, per divertimento personale. Poi ho avuto un po' la possibilità di avere un po' di visualità grazie anche al maestro Gianni e a tanti altri amici che mi hanno dato anche molto insegnamenti e quindi adesso mi trovo qua nella speranza di aver divertito e nella piccola presunzione di aver regalato anche una sola emozione alla gente che ci ascolta. Ma guarda, di emozione tu ne regali tante perché noi ti abbiamo seguito anche con le nostre telecamere in altri spettacoli. Voglio dire che quando tu canti, sei dietro un microfono con la tua chitarra, insomma la tua voce, riesci soprattutto ai giovani a dare veramente quelle emozioni forti. Ma è quella la spinta, di mettere sempre qualcosa di tuo là dentro. Perché una canzone, il testo è uguale, la musica è uguale, però è come esce dentro, gli devi mettere la tua anima e cercare di trasmetterla e coinvolgere. Le proprie emozioni, trasmettere ai giovani, alla gente che ti segue. Quindi veramente ci vuole, non bisogna essere solo bravi a cantare, a essere un cantante, ma devi esprimere veramente quello che senti dentro. Quindi con le canzoni che tu ci fai ascoltare sono veramente emozioni indimenticabili. Beh, sono felice le tue parole. Spero di riuscire a trasmettere quello che voglio, perché poi la musica è questo. Sentirsi dire solo bravo per la voce o per la tecnica di canto. È bello quando il miglior complimento, a volte me lo fanno, diciamo, spesso, non per essere voglio o per vantarmi. È quello di... Hai emozionato, anche sulle poesie, io scrivo in vernacolo. E quindi sentire la parola, mi hai emozionato. Questo è il più bel complimento che si può fare ad un artista. Ecco, per chiudere, Carmelo, solo per chiudere, un messaggio, perché tu sei un artista giovane che canti appunto le tradizioni di questa terra. Ecco, ai giovani, cosa ha un messaggino da parte tua? Ma il messaggio è quello di sviluppare le passioni, che sia musica, che sia quello che è di coltivarle, di tirarle fuori. Perché comunque è un dono che ognuno di noi ha, o è musica o è un'altra arte, ce l'abbiamo un pochettino tutti, di tirarla fuori. E che comunque in questi ultimi anni i giovani seguono tantissimo questo genere di musica. Sì, infatti è stata una bellissima realtà vedere che ai tempi miei i suonatori d'argonetto giovani erano due, tre a paese, nuove, che si avvicinavano a questa tarantella che era un po' vista come antica, antiquata, e andava di moda il famoso Tunzi Tunzi, la commerciale, Aus e questo. Oggi no, oggi la cosa fortunatamente è cambiata. Io partecipo a molti eventi musicali, etno, tradizionali, e diciamo che sono i giovani i suoi convolti. È vero, è vero che questa musica fa veramente, questi canti popolari fanno veramente emozionare. Io ti ringrazio per la bella serata che ci hai fatto vivere insieme a Gianni Favasuli, e l'altra ragazza, non ricordo il nome. Lucia Catenzari, sì. Lucia Catenzari, quindi voglio dire veramente bravi, grazie veramente. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ciao. Grazie.